Di nuovo ben trovati, sempre in regolosa diretta con il nostro telegiornale interregionale. Partiamo subito con la sanità, andiamo all'interno del nuovo quotidiano di Puglia. Personale a Lumicino, la guerra fra le asle, venerdì doppio vertice. A Taranto e Brindisi, due riunioni su sprechi e carenza di medici e infermieri, depositata la proposta di azione, azienda unica, fratelli d'Italia, Sfacelo, Palese, ora si dimetta. Insomma una sanità pubblica, regionale, che sembra essere al collasso quotidianamente. Vi stiamo aggiornando sui guai dei vari ospedali, specie in provincia di Brindisi. Chiaramente la politica sta litigando sulla questione, in realtà già da piuttosto tempo, ma la situazione ora sembra essere letteralmente esplosa. Peraltro quotidiano appunto registra anche la dura posizione del Presidente dell'Ordine dei Medici, Arturo Oliva. Brindisi è sfascio totale, assurdo che siano i sindaci a studiare un piano di emergenza e non la ASL, siamo ai titoli di coda, dice Oliva, la sanità in alcuni settori qui di fatto non esiste più, si intervenga. Ora c'è anche una foto dell'ospedale Dario Camerlingo di Francavilla Fontana, dove si registra la sospensione dei ricoveri di ostetrici e ginecologia. Già dello scorso aprile è montato ancora il caso per quanto riguarda chirurgia, così come a Ostuni, dove ieri si è tenuto un sit-in di protesta promosso dal centro-destra, chiaro disinteresse della regione. C'era questo sit-in ieri mattina all'Ostuni, c'eravamo anche noi, c'era per noi Gianmarco di Napoli. Allora, vediamo cos'è accaduto ieri davanti all'ospedale di Ostuni. Un fiocchetto bianco legato al polso per simboleggiare il proprio sostegno agli operatori sanitari dell'ospedale di Ostuni, dove da qualche giorno è stato chiuso il reparto di chirurgia, ma anche a quelli del Perrino di Brindisi e del Camerlingo di Francavilla, dove sono stati bloccati i ricoveri ordinari. Un sit-in di protesta è stato organizzato lunedì mattina davanti all'ingresso dell'ospedale di Ostuni, da otto consiglieri comunali d'opposizione del centro-destra. Tra questi anche un medico, il dottor Gianni Spennati, consigliere comunale della civica per Ostuni. Oltre alla chirurgia chiusa, all'ortopedia chiusa e questa gravissima carenza di personale, l'ospedale alla fine tenderà, come abbiamo sempre detto, a essere completamente chiuso. Se la Giunta regionale ha deciso che l'ospedale di Ostuni deve essere un ospedale di base, deve avere tutti i criteri per esserlo. Non può diventare solo un bacino per poter prelevare medici e personale per le carenze di altri presidi. Spero che la Giunta regionale, ma anche l'attuale amministrazione di Ostuni, possa in qualche modo eseguire degli importanti tavoli tecnici, possibilmente con la presenza anche di personale addetto ai lavori, per poter risolvere tutte le problematiche di Ostuni in tempi rapidissimi. Non si tratta più di emergenza, non si tratta più di urgenza, ma per l'ospedale di Ostuni è veramente una catastrofe. A Sittin hanno aderito anche medici da poco in pensione, come il dottor Giovan Battista Farina, sino a qualche mese fa in servizio al pronto soccorso. Io sono in pensione da due mesi, medico di pronto soccorso per tutta la mia vita. Le cose che ho visto in questi periodi mi lasciano sconcertato, però io ero già pronto, perché ero convinto che quello che è successo in questi giorni credo che sia un discorso, per quello che penso io, ben premeditato. Non c'era alcun sit-in di protesta, invece, davanti al Camberlingo di Francavilla a Fontana. C'eravamo però noi, c'era la nostra telecamera, il nostro microfono, c'ero io personalmente, per capire qual è poi la percezione da parte dell'utenza sullo stato di salute della sanità pubblica. Le risposte sono state piuttosto variegate, piuttosto diverse, figlie evidentemente delle personali esperienze che ogni singolo utente ha, per l'appunto, con la sanità. Guardate. E tre settimane che vado e vengo, non c'è il posto. Non c'è il posto? No, non c'è il posto per fare la prenotazione. Chiamiamo di fare la visita allergica, non riusciamo. Devo provare di nuovo. Bocca al lugo. Grazie. Reparti sospesi, medici in fuga, attese infinite, ma anche la grande professionalità del personale medico. A commentare la situazione difficile della sanità pubblica in generale e dell'ospedale Dario Camberlingo in particolare, sono gli stessi utenti intercettati all'uscita e all'ingresso del bistrattato non so comio. Non ho proprio parole, sinceramente. Che cosa bisogna, che si può dire? Che siamo distrutti, in tutti i sensi. Se c'è da fare una risonanza o qualcosa, non c'è la possibilità di farla. Niente, zero. A pagamento la danno una settimana. Io l'ho fatta da adesso. La scelterò di pagare? Eh, come faccio? L'appuntamento era l'anno 91, fino all'anno 2024. Come faccio? Io la verità non ho mai aspettato, la verità. Per mia fortuna sono stata fortunata. Posso dire questo? Sì, è proprio un disastro, non puoi andare da nessuna parte. La sanità pubblica al collasso, lei veniva da qui, chiaramente, perché per cercare cure ha avuto soddisfazione. Sì, sì, diciamo di sì. Diciamo di sì. Di solito è peggio la cosa, però... Capirai? Beh, onestamente. Non ci sono parole che chiudano gli ospedali piccoli, servono. Non se ne fregano niente. Poco il gene nei bagni. Adesso vengo dal bagno, insomma, poco il gene. Qual è la sua esperienza con la sanità pubblica? Io, fortunatamente, sto avendo ancora ancora buone esperienze. Anche se vengo da Bari, Lecce, altre cliniche, vediamo che succede qua adesso. Insomma, pure al collasso, la sanità pubblica resiste, rappresentando un presidio fondamentale per un'utenza arrabbiata, eppure affezionata, perché è all'ospedale, in un modo o in un altro, che si cerca la salute. Lei è soddisfatto del servizio offerto dalla sanità pubblica? Sì, sì. Con i suoi ritardi, comunque. Lascio qui, faccio. E allora, questa è la situazione, o meglio, questa è la percezione da parte degli utenti sulla sanità pubblica. Lo avete capito. C'è sicuramente fiducia nei confronti del personale medico, meno evidentemente nei confronti della struttura e della stessa azienda. Su questo momento di crisi, chiamiamola così, della sanità provinciale Brindisina, abbiamo ascoltato il parere di un esperto, ovvero l'ex assessore alla sanità regionale, Pierluigi Lopalco, oggi consigliere regionale, esperto chiaramente di ricerca, ma appunto anche ex amministratore e quindi capace di testare e tastare sul campo quella che è poi l'organizzazione, diciamo così, da un punto di vista amministrativo e anche politico della sanità pubblica. Allora, ascoltiamo il professor Pierluigi Lopalco, nello specifico proprio sulla difficile situazione vissuta dalla sanità provinciale Brindisina, intervistato dal nostro Paolo Franza. In Puglia non abbiamo la libertà, se non sotto la scure del Ministero dell'Economia e Finanze, di poter investire e senza investimenti la nostra sanità andrà davvero al fondo. Blocco dei ricoveri e delle attività chirurgiche programmate negli ospedali di Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana, la causa e la carenza dei medici che mette in ginocchio il sistema sanitario brindisino, una situazione che va ad aggravarsi sempre di più e fa seguito alla sospensione dell'attività del reparto di ostetricia dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Si sta pagando il fio, diciamo, di una programmazione di lungo periodo, e questo non è un problema che risale soltanto a pochi mesi fa, è una programmazione di lungo periodo che non ha visto lontano e non ha visto che ad un certo punto ci saremmo trovati in una situazione con una carenza di medici, soprattutto in alcuni reparti, e una carenza di personale in generale. Dobbiamo togliere questi tetti all'assunzione del personale. L'aveva preventivato questo lei da assessore? Il Covid aveva portato tutto il sistema come dire al limite di rottura e quindi questi avvisagli c'erano sicuramente. Cosa fare? Bisogna lavorare a livello nazionale per far capire che bisogna ritornare ad investire in sanità. C'era stato un timido tentativo nelle ultime due finanziarie di riportare gli investimenti in sanità almeno per rifarci di tutte le spese che aveva comportato il Covid. Dopo di ciò oggi ritorniamo al vecchio mantra tagliare, tagliare, tagliare. La sanità non si può più tagliare. La sanità non si può più tagliare. Siamo assolutamente d'accordo con il professor Pierluigi Lopalco. Break di cronaca. Restiamo nella Brindisina a Torchiarolo. Un incendio è divampato in un supermercato in provincia di Brindisi provocando qualche danno. In realtà niente di grave ma il fatto resta secondo i primi accertamenti il ruogo sarebbe partito da materiali in gomme e parti elettriche che bruciando hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero quando si è sviluppato il rogo il supermercato era chiuso per la pausa. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti con un autobot e dopo aver spento le fiamme hanno provveduto a ventilare il locale con particolari apparecchiature aspiratori e ventilatori ed è stata accertata l'assenza di danni strutturali. Probabilmente si tratta di un episodio dalle cause e dalla natura assolutamente accidentale che ha provocato sicuramente un po' di paura e preoccupazione oltre che ad annerire i locali interessanti. Per fortuna però lo ripetiamo nulla di grave. Ben più grave invece l'incendio di ieri mattina intorno a mezzogiorno nella zona industriale fiamme in un'azienda chimica allora il servizio di Antonella Fazio. 10 squadre 32 vigili del fuoco per domare le fiamme un incendio di ampie dimensioni e divampato intorno alle 12.30 all'esterno dei capannoni della Chimpex azienda di prodotti chimici solventi e vernici alla zona industriale del capologo pugliese l'intensa colonna di fumo alta e nera è stata immediatamente visibile da più zone della città soprattutto dai quartieri Libertà e San Paolo e dai comuni dell'Interland. Per ora non si segnala la presenza di persone al momento dello scoppio ma le fiamme dovrebbero essere arrivate solo ai capannoni del lato opposto all'ingresso di via De Leonardis sul posto squadre di vigili del fuoco con le autobotti e in elicottero per controllare la situazione anche dall'alto l'aria è stata subito fatta evacuare a mettere in sicurezza la zona anche gli agenti della questura di Bari che insieme ai pompieri stanno lavorando per capire quali possano essere le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio. Proseguiamo andiamo avanti la statale 275 sarà consegnata al Salento la promessa dall'assessore regionale Anita Mauro Di Noia la statale 275 sarà consegnata al Salento superati tutti i nodi lo assicura l'assessore regionale Anna Mauro Di Gioia invece per la 275 che tempi ci dà visto che è una strada che sta molto a cuore ai salentini visto anche le vittime la 275 è un'opera importante finalmente la sblocchiamo dopo 30 anni i tempi da cronoprogramma ora diciamo l'arrivo degli ulteriori finanziamenti ci permetterà di realizzare tutto il primo lotto ovviamente non abbiamo ancora il cronoprogramma aggiornato perché la notizia veramente la stiamo dando oggi a voi e quindi Anas si è impegnata a realizzare anche perché abbiamo il commissario straordinario che è un'opera quindi che non potrà diciamo essere realizzata con ulteriori ritardi quindi la stiamo monitorando anche grazie all'intervento dell'ingegner Marzi nominato commissario straordinario comunque è stata sbloccata il nostro titolo può essere sbloccato il nodo 275 sì assolutamente il primo lotto è sbloccato perché mancava come dicevo il finanziamento per il terzo stralcio ora abbiamo chiesto al ministero anche l'occoopertura per il secondo lotto è una delle priorità della regione Puglia perché abbiamo avuto un incontro con il ministero abbiamo dato un elenco di priorità Mauro Di Noia ovviamente l'assessore regionale Edisa Spera resta il nome principale voltiamo pagina di Berletta al centro il gruppo consigliare della maggioranza Cannito fa il punto dopo la revoca dell'incarico comunicata all'assessore di riferimento la giunta del comune di Berletta ha visto un nuovo accentramento di mansioni nelle mani del primo cittadino ma per il bene della città leggiamo dal lancio i consiglieri sono disposti ad intavolare un dialogo per il reintegro della Spera allora i dettagli nel servizio di Antonio Gargano Elisa Spera resta il nome principale di Berletta al centro il gruppo consigliare della maggioranza Cannito fa il punto dopo la revoca dell'incarico comunicata all'assessore di riferimento la giunta del comune di Berletta ha visto un nuovo accentramento di mansioni nelle mani del primo cittadino ma per il bene della città i consiglieri sono disposti ad intavolare un dialogo per il reintegro della Spera noi non abbiamo assolutamente problemi su nome alla persona certo noi riconfermeremo la Spera lo riconfermiamo non ci sono motivazioni per le quali che ci possano indurre a non fare più il nome della Spera lo ripetiamo e lo richiediamo per noi Elisa Spera e lo abbiamo rimarcato anche nelle precedenti occasioni è stata lo è una persona seria una persona leale una grande professionista preparata e l'ha dimostrato anche sul campo come anche poi apprezzato da molti esponenti della maggioranza stessa e nelle dichiarazioni ultime rilasciate nessuna attinenza tra la PEC inviata a Cannito e la revoca della Spera le segnalazioni di Berletta al centro relative al modus operandi del presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte che in assise non avrebbe concesso la parola ai consiglieri del gruppo rappresentano un contesto politico dissociato dai ruoli istituzionali non ha assolutamente attinenza perché sono due cose scevre e avulse l'una dall'altra questa è una questione istituzionale questa è una questione politica sono delle coincidenze e niente più che delle coincidenze si attende adesso la risposta del sindaco di Barletta Cosimo Cannito noi attendiamo da parte di Minucannito dei chiarimenti che ci inducano a comprendere meglio le dinamiche di questa sua legittima devo anche dire tra virgolette decisione per cui le sue prerogative sono anche queste ripeto di cambiare un assessore decidere di rimuoverlo e lo può fare quando vuole sono le prerogative del sindaco l'importante è che tutto si faccia per il bene della città tutto sempre per il bene della città ovviamente voltiamo nuovamente pagina torniamo alla cronaca andiamo a Fasano lungo le sue marine Savelletri torre canne posti splendidi popolati da cittadini e turisti ma anche da ladri perché nelle ultime settimane sono stati registrati e denunciati numerosi furti specie di auto mentre in città invece si registrano tanti colpi in appartamento ci spiega tutto Gianmarco Di Napoli furti d'auto lungo le marine e nelle case del centro della città preoccupa l'impennata di casi denunciati a Fasano dove da alcune settimane i ladri sembrano essersi scatenati la zona in cui si registrano il maggior numero di furti d'auto è quella che da qualche giorno ha iniziato a essere affollata di vacanzieri tra Torre Canne e Savelletri le autoprese di mira non solo quelle di grossa cilindrata sono parcheggiate lungo i vialetti alberati che portano alle spiagge ma anche sulla litoranea che collega le due frazioni e che è una sequenza senza soluzione di continuità di stabilimenti balneari privati e di spiaggette libere quasi sempre le vetture scompaiono senza essere mai più ritrovate probabilmente destinate come accade spesso nella Puglia centro-settentrionale allo smontaggio completo per ottenerne pezzi di ricambio in casi meno frequenti esse vengono rivenute integre parcheggiate come se i ladri volessero farle ritrovare su strisce pedonali o davanti a cancelli con divieti di sosta alimentando così il sospetto che sia ancora radicato il sistema del cavallo di ritorno ossia del riscatto pagato dai proprietari derubati ai ladri per riavere le loro vetture i furti in appartamento aumentano invece nel centro di Fasano a ridosso di Corso Vittorio Emanuele anche approfittando di questi giorni di maggiore confusione provocata dalla festa patronale numerosi gli ingressi delle abitazioni forzati e case messe sotto sopra per portare via gioielli orologi e denaro in contante presentato a Palazzo di Città nelle scorse ore il nuovo comandante della polizia locale di Canosa dopo un decennio di carica vacante torna a riempirsi la casella dirigenziale con l'insediamento di Simone Testa 34 anni da 13 all'interno del corpo e reduce dal ruolo di comandante a Pisticci presentato a Palazzo di Città il nuovo comandante della polizia locale di Canosa dopo un decennio di carica vacante torna a riempirsi la casella dirigenziale con l'insediamento di Simone Testa 34 anni da 13 all'interno del corpo e reduce dal ruolo di comandante a Pisticci l'amministrazione Malcangio mi ha scelto naturalmente per portare sicurezza nella città di Canosa siamo pronti a questo importante passo e naturalmente metterò tutto il mio impegno per arrivare a dare sicurezza ai cittadini e alle persone naturalmente che hanno necessità della polizia locale sul territorio è una responsabilità importante perché fare il comandante non è semplicemente dare ordini ai propri operatori ma è ascoltare i cittadini interfacciarsi con l'associazionismo e andare ad attuare quelli che sono gli obiettivi poi dell'amministrazione comunale secondo dei principi di legalità di trasparenza e di buona amministrazione è una responsabilità importante ma ho voglia di farlo anche la presunzione se così possiamo definire di pensare di poter riuscire ad ottenere questi risultati la nomina di testa permetterà di guardare con un occhio importante anche alle assunzioni la polizia locale conta 16 elementi dai 29 di un decennio fa ma a breve saranno indetti i bandi di concorso per ampliare la squadra cittadina le assunzioni non sono finite qui continueremo ad assumere perché si può assumere è tutto lì l'abilità se l'amministrazione sa muoversi fa le assunzioni che bisogna fare per l'ente un obiettivo unico quello di rifondare e di potenziare il corpo della polizia locale lo faremo con i concorsi nei prossimi mesi torniamo in Salento a Lecce abbiamo ascoltato le ragioni dei tassisti da qualche tempo in protesta Maria Teresa Carrozzo quanti turisti in arrivo usano i vostri mezzi innanzitutto? un'antevole richiesta di taxi soprattutto per quanto riguarda le marine siamo a Lecce a miei spalle la stazione come vedete si anima di turisti incominciano ad arrivare i vacanzieri ma tante sono le emergenze che proprio gli operatori del settore lamentano in questa zona che problematiche riscontrate nel momento in cui la stazione si anima quindi arrivano i treni? sicuramente una delle problematiche è per quanto riguarda i parcheggi perché comunque sono stati ridotti notevolmente per quanto riguarda il rifacimento della stazione di Lecce la mettiamo la mancanza di controlli dalla parte della pulizia municipale soprattutto quando arrivano i treni a lunga percorrenza perché si crea un ingog un imbuto che praticamente non permette sia l'uscita dei taxi ma soprattutto anche dei colleghi delle ferrovie sud-est con i pulma quindi si crea un imbuto e rimaniamo completamente bloccati delinquenza mancanza di parcheggi poca organizzazione scarsa collaborazione da parte degli automobilisti salentini queste soltanto alcune delle problematiche lanciate dagli operatori del settore volete fare un appello utilizzando il nostro occhio l'occhio di antenna sud sicuramente maggiore presenza delle forze dell'ordine e soprattutto della pulizia municipale perché ripeto la stazione è lo specchio di una città quindi vedere una stazione che completamente non è vivibile crea anche un danno in immagine naturalmente all'intera città di Lecce maggiori controlli e noi chiediamo danni una postazione fissa di pulizia municipale stare qua 10-20 minuti non risolve il problema soprattutto in questo periodo in cui c'è questi lavori di ristrutturazione quindi avere maggiore presenza della pulizia municipale chiarissime le richieste dei tassisti dalla strada al cielo andiamo nelle pagine di attualità del nuovo quotidiano di Puglia turismo al bivio addio ai viaggi low cost volare costa il 50% in più così si scoraggiano i turisti l'associazione nazionale di distribuzione turistica chiede l'intervento del governo da Bari o da Brindisi il volo per 4 persone costa anche 1500 euro si rischia di frenare la ripresa in corso i conti in tasca i pugliesi Puglia promozione seguiamo il fenomeno articolo di Rita de Bernhardt probabilmente alla fine di un'era le compagnie di voli low cost sono sempre più simili a quelle di bandiera quanto meno nelle tariffe i prezzi dei voli continuano ad aumentare spariscono le offerte last minus che consentivano di visitare le capitali europee al costo di una cena o poco più facendo una ricerca di voli nei motori di ricerca specializzati è praticamente impossibile trovare le grandi occasioni di un tempo viaggiare con i noti vettori dei voli economici costa in media il 30% in più con picchi fino al 50% la domanda però al contrario resta costante in alcuni casi ai periodi dell'anno è addirittura in crescita come per l'estate appunto nei pugliesi e per i connazionali in genere si è risvegliato un forte desiderio di viaggio nonostante l'aumento generalizzato della spesa media per una vacanza e del costo medio della vita un fattore quest'ultimo che rappresenta in buona parte la causa stessa di questa inversione di tendenze insomma la fine dei voli low cost almeno per questo periodo dell'anno mentre c'è chi lamenta politiche piratesche da parte di alcune società i servizi siano adeguati insieme ai costi non dovrebbero più essere definite compagnie low cost commenta Giuseppe Pagliara amministratore della Nicolaus Tour a volte sono più costose di quelle di bandiera il sistema di trasporti si è evoluto queste aziende applicano il revenue che gestisce i prezzi e di fatto fanno pagare un volo quanto il cliente è disponibile a pagarlo a volte però purtroppo senza dare i giusti servizi hanno scrive Pagliara una politica di attivazione e cancellazione quasi tiratesca in base alla propria convenienza senza alcuna attenzione agli utenti che si trovano spesso con i voli cancellati all'ultimo minuto in situazioni di overbooking complicate da gestire ci sono anche varie posizioni un bonus vacanze e un'idea per sostenere il comparto in alcuni casi i servizi davvero scarsi devono essere migliorati dalle coste appunto politiche piratesche eliminano le tratte con pochi biglietti insomma questa la polemica relativa ai voli o meglio ai prezzi dei voli applicati dalle compagnie per l'appunto low cost che però così tanto low cost al momento sembrerebbero non esserle dobbiamo andare in fascia prima di andare in fascia però chiudiamo il cerchio proprio su questa pagina parliamo di profumi e cosmetici tabacchi liquori giocattoli e un vasto assortimento di prodotti made in Italy sì parliamo sempre di voli o meglio stiamo parlando di un nuovo duty free all'interno dell'aeroporto di Bari duty free targato Enemann colosso internazionale del mercato al dettaglio presente da poche ore a Bari ma più in generale in alcuni dei più grandi grossi e importanti aeroporti di tutto il mondo profumi e cosmetici tabacchi liquori giocattoli un vasto assortimento di prodotti made in Puglia taglio del nastro all'aeroporto caro al VT di Bari del nuovo duty free targato Enemann colosso internazionale del mercato al dettaglio presente nei più importanti aeroporti di oltre 28 paesi un'area di quasi 600 metri quadrati in una veste più ampia razionale e rinnovata oltre a maggiori spazi dedicati alle eccellenze gastronomiche della nostra regione una struttura dicono da aeroporti di Puglia che simboleggia un evidente segno di rilancio qui trova tutta l'eccellenza di un territorio sia per la capacità che abbiamo di rendere appetibile e commerciale tutti i nostri prodotti pugliesi a cominciare dalle olive della pasta chiaramente dai sughi e adesso porteremo in maniera prepotente il vino nei nostri aeroporti perché il vino è un grande mezzo di diplomazia è un grande mezzo di sponsorizzazione del nostro territorio uno dei nostri obiettivi in particolare nella ristrutturazione di questo negozio era proprio di dare grande risalto ai prodotti della regione Puglia che è una regione in grandissima crescita in cui l'aeroporto è un gate e quindi è un'occasione straordinaria per rappresentare quelle che sono le eccellenze del territorio e questo abbiamo cercato di fare insieme all'aeroporto nell'ambito di questo progetto che abbiamo portato avanti già durante la pandemia ben trovati sempre in diretta con altre news altre notizie altre pagine dei quotidiani nuovo quotidiano di Puglia nuovo quotidiano di Brindisi il capocronaca dedicato al capoluogo messapico che parla della nuova giunta la nuova giunta del sindaco Marchionna alla prova del 9 come i nuovi assessori abbiamo ascoltato gli elettori ha detto Marchionna il sindaco spiega il perché della scelta dei più suffragati tra i candidati al Consiglio Comunale ed annuncia la sottoscrizione di un patto etico tra le forze di maggioranza in caso di cambi di casacca equilibri immutati qui in foto Marchionna che stringe la mano a Massimiliano Ogiano nuovo assessore all'urbanistica e pianificazione del territorio esponente di Fratelli d'Italia ma anche vice sindaco di questa nuova amministrazione andiamo alla pagina successiva si parla appunto della squadra abbiamo detto di Massimiliano Ogiano all'urbanistica il professore al lavoro sul futuro della città consigliere comunale di lungo corso ex vicepresidente del Consiglio Massimiliano Ogiano e fin dalla nascita di Fratelli d'Italia uno dei principali rappresentanti istituzionali del partito di Giorgia Meloni potremmo dire che è anche uno dei massimi rappresentanti di Fratelli d'Italia non solo nella città di Brindisi ma anche a livello provinciale e ora diciamo che il suo impegno la sua militanza ma anche l'importante risultato elettorale ottenuto alle scorse elezioni è stato cristallizzato con questa nomina lo ripetiamo quello di assessore all'urbanistica ma anche appunto vice sindaco vice del primo cittadino Giuseppe Marchionna un altro nome importante della politica cittadina e provinciale ovvero Gianluca Quarta per Forza Italia la prima forza di maggioranza a Brindisi delega ai lavori pubblici per Quarta Quarta che rilanciò le farmacie ora spazio ai cantieri Gianluca Quarta è titolare dell'omonimo studio che si occupa di gestione e di amministrazione di stabili condomini e super condomini quindi una delega come dire sicuramente politica ma che non nasconde sicuramente competenze tecniche da parte del neoassessore Quarta un altro nome importante per la giunta Marchionna ovvero quello di Livian Tonucci bilancio e tributi la sorpresa dell'ultimo minuto Ernestina Sicilia nuova assessora alla pubblica istruzione dal diritto di famiglia al diritto allo studio gli altri nomi Antonio Pisanelli servizi sociali tecnico in pensione è più volte già assessore consigliere comunale di lungo corso Antonio Pisanelli ha sempre militato tra centro e centro-destra è stato eletto diversi anni fa ormai con l'Udc ma ha fatto parte anche di Futuro e Libertà Fli la ricorderete la creatura di Gianfranco Fini fa parte della frangio la democristiana di Fratelli d'Italia dal punto di vista professionale Pisanelli che ora è in pensione era tecnico della prevenzione presso il servizio di igiene pubblica dell'Asle di Brindisi è già stato assessore con delega di igiene pubblica pubblica istituzione area protette stavolta si occuperà di servizi sociali Lidia Penta sport e politiche giovanili pittrice per passione la prima esperienza amministrativa Lidia Penta da qualche anno militante della Lega che appunto ottiene la delega allo sport e alle politiche giovanili un'altra delega sicuramente importante è quella dell'efficienza amministrativa che va a Daniela Magli ex leader della Margherita ora in quota ad azione ultima segretaria provinciale della Margherita prima della fusione con il di essa all'interno del partito democratico Daniela Magli ha una storia politica tendenzialmente di centro-sinistra al momento politicamente è legata a Fabiano Amati quindi al partito di azione con Carlo Calenda Antonio Bruno tutela dell'ambiente il nuovo assessore o meglio un altro volto noto l'urbanista di Mennitti prestato all'ecologia architetto urbanista tra i responsabili delle politiche relative alla pianificazione del territorio ai tempi dell'amministrazione Mennitti Antonio Bruno non è solo un professionista esperto ma anche un politico di notevole competenze il gioco dei nove insomma per il sindaco Pino Marchionna che si chiude con un altro volto noto della politica brindisina ovvero Luciano Loiacono attività produttive per lui la rivincita politica del fuoriuscito del partito democratico allora in sintesi potremmo dire che si tratta sicuramente di una giunta a forte trazione politica che rispecchia in qualche modo il voto popolare dello scorso maggio quando si è votato appunto per i consiglieri al primo turno ma è anche un'aggiunta credo di poterlo dire che non nasconde diverse competenze specifiche almeno per quanto riguarda le deleghe più delicate per noi ieri alla presentazione della giunta Palazzo di Città c'era Anna Saponaro che ha intervistato il sindaco Giuseppe Marchionna ma anche alcuni dei neo assessori allora facciamo un recap con di seguito le tre interviste a Marchionna e poi gli assessori Ogiano e Maglia restano al sindaco sì insieme anche al porto e ad altre deleghe non esplicitamente citate in quelle trasferite agli assessori diciamo che la squadra che abbiamo composto è una squadra di livello tengo a sottolineare il fatto che abbiamo privilegiato consiglieri eletti o che sarebbero stati eletti a valle dello scorrimento delle gradatorie quindi abbiamo privilegiato e seguito l'indicazione del corpo elettorale che ha indicato in questi consiglieri anche con un discreto numero di voti diciamo le persone a cui si voleva politicamente rivolgere per affidare la guida della città Sindaco ci avete pensato sostanzialmente 15 giorni prima di ufficializzare i nomi avete parlato sempre di grande armonia in questo gruppo ma è apparente o è reale? No io direi che è assolutamente reale in realtà in questi 15 giorni che in realtà sono molti di meno per il semplice motivo che settimana scorsa tra anche se questa cosa fa sorridere qualcuno tra regata di Brinzi Corfu e il funerale di Berlusconi abbiamo perso 3-4 giorni e quindi siccome bisognava completare un giro che ho fatto personalmente nei rapporti con i singoli partiti sabato abbiamo fatto la riunione collegiale la riunione collegiale per farvi capire è durata non più di 40-45 minuti martedì mattina prima riunione di giunta domani mattina alle 9 c'è la prima riunione di giunta per l'avvio dei lavori e anche per la presentazione ai rispettivi dirigenti da parte dei singoli assessori Dopo 9 anni di opposizione Massimiliano Gianno ritorna in maggioranza un assessorato impegnativo quello all'urbanistica e quel ruolo di vice sindaco Guardate sono pochi momenti in cui mi sono emozionato nella mia vita e questo è uno di quelli sicuramente la nascita di mia figlia è stato il principale ma posso dire senza ombra di smentita che questo incarico mi inorgoglisce mi dà un carico di responsabilità che sto già sentendo e devo anche dire a onestà per onestà che uno dei primissimi messaggi che questa mattina ho avuto è stato quello dell'assessore uscente del professore Dino Borri assessore all'urbanistica che ci ha diviso quasi tutto durante questa consigliatura ma che è stato un messaggio veramente di speranza e di complimenti che ho apprezzato tantissimo ai quali faccio veramente i miei migliori auguri con questo diciamo noi proveremo a dare il nostro contributo e a mettere in atto quelli che erano i principi per i quali abbiamo portato avanti in questi anni di opposizione provando a dare una svolta a una città che ha bisogno di creare le condizioni di una risalita e a cui tutti si stanno aspettando un assessorato delicato quello degli affari legali ma come si sta con una squadra che storicamente è di centrodestra assessore allora io intanto oggi è la giornata dei ringraziamenti quindi sicuramente un ringraziamento va al sindaco Pino Marchionna per avermi dato fiducia e soprattutto per aver individuato un assessorato che è confacente alle mie competenze alla mia professione professionalità perché secondo me la politica e la competenza devono andare un accanto all'altro come si sta in questa squadra? Bene perché l'abbiamo scelta con cognizione abbiamo scelto un sindaco riformista che poteva garantirci una politica dei sì ragionati e non una politica dei no senza senso e quindi ci staremo bene e mi auguro che lavoreremo benissimo auguri di buon lavoro al sindaco Giuseppe Marchionna e alla sua giunta ai suoi nuovi nuove assessori chiudiamo così la pagina dedicata alla nuova giunta di Brindisi cambiamo provincia andiamo in provincia di Taranto andiamo a San Giorgio Ionico dove c'è un po' di polemica sulla decisione del sindaco Mino Fabiano di demolire una scuola dell'infanzia chiaramente come spesso capita in questi casi al netto delle motivazioni da parte del sindaco l'opposizione però proprio non ci sta allora ascoltiamo il servizio di Laura Milano la scuola dell'infanzia Leonardo Da Vinci di San Giorgio Ionico chiuderà sì è vero e questo la comunità lo ha appreso ma attenzione dice il sindaco Mino Fabiano il plesso chiuderà solo perché l'amministrazione comunale ha progettato la sua completa demolizione e successiva ricostruzione dai banchi dell'opposizione arriva la richiesta al primo cittadino di fornire le motivazioni della scelta consiglieri di minoranza che dicono di aver sentito l'ufficio tecnico nel merito quella scuola costruita ormai più di 40 anni fa negli anni 80 per le conoscenze dell'epoca per le tecniche costruttive dell'epoca non risponde ormai da anni ai canoni di sicurezza di confortevolezza a cui gli edifici scolastici devono essere soggetti perché la rimozione e non interventi perché dal punto di vista sia della spesa e quindi degli oneri necessari sia dal punto di vista della tempistica la costruzione e la demolizione la successiva ricostruzione sicuramente danno maggiori garanzie il nuovo layout costruttivo degli edifici scolastici secondo il sindaco risponderebbe meglio alle esigenze di sicurezza dei piccoli ospiti ai consiglieri di Fratelli d'Italia chiederei di non usare e di non strumentalizzare i bambini torniamo in provincia di Brindisi andiamo a Francavilla Fontana nelle scorse ore nella mattinata di ieri siamo stati al quartiere San Lorenzo abbiamo raccolto le voci le lamentele dei cittadini circa la situazione di degrado e di sporcizia in cui vive il quartiere un quartiere dove l'erba l'erbaccia l'erba alta non viene tagliata mai ma proprio mai non è certo difficile credere che tra queste serpali urbane che invadono terreni aiuole strade e marciapiedi di Viale Abadessa e Piazza Caliandro si nascondano serpenti e chissà cos'altro più volte fotografati e finiti sulle pagine social sporcizia e degrado la fanno da padrone al quartiere San Lorenzo di Francavilla Fontana dove i residenti sembrano quasi essersi rassegnati campacavallo che l'erba cresce qua non la tagliano mai l'erba no mai mai vengono solo il giorno delle votazioni e vogliono il voto invece l'erba non la tagliano mai l'erba non la tagliano mai e i topi i serpenti le zanzare tutto tutti i tipi di incendi tutta questa zona stanno la colpa del comune dei cittadini il comune perché non ci sta dietro proprio la situazione del verde pubblico un po' è disastrosa non è che è male è disastrosa questo è il problema e nessuno vuole pulire non può pulire non abbiamo capito cosa è successo eppure i progetti che riguardano l'area sono tanti e ambiziosi eppure questo è il presente e ci torneremo al quartiere San Lorenzo per vedere se dopo questo servizio cambieranno e noi crediamo proprio di sì un po' le cose poi punzecchieremo l'assessore al verde pubblico per fare in modo che quella situazione di degrado oggettivo di sporcizia oggettiva di incuria della cosa pubblica e del verde pubblico nello specifico dobbiamo fare in modo insomma che cambi davvero qualcosa che cambi subito non l'anno prossimo che cambi ora ci torneremo ci torneremo andiamo invece a leggere ora i giornali volevo fare una capatina sulle pagine di un quotidiano nazionale della stampa in questo caso il titolo è dedicato alla nuova riforma oggi il DDL sull'abuso d'ufficio infatti arriva alla camera la maggioranza stringe sulle intercettazioni scontro al CSM insomma nordio secondo la stampa che la tocca piano e eufemisticamente giustifica gli evasori frazza e shock del guarda sigilli anche l'imprenditore onesto non può pagare tutte le tasse ne scrive la salentina Monica Serra e poi c'è questo editoriale questo punto di vista questa analisi di Mario De Aglio tra corruzione e pizzo di Stato c'è davvero tanta polemica su questa riforma su questo DDL il fisco andiamo a leggere il fisco secondo nordio anche chi vuole pagare alla fine viola le regole il ministro della giustizia la legislazione tributaria schizofrenica chiunque commette violazioni dobbiamo dare certezze ai contribuenti la riforma punta sulla conciliazione non sulla repressione parole frasi quelle di nordio quelle del ministro che hanno come dire suscitato diverse polemiche diverse reazioni c'è da dire che probabilmente nordio dimenticando forse di essere un ministro va a fotografare però una situazione piuttosto reale quello che ha detto è una di quelle cose che forse non si dice ma che magari è anche vera il gettito evaso regione per regione e qui la fanno da padrone le regioni del sud Italia economia non osservata in percentuale del valore aggiunto regionale al primo posto c'è la Calabria poi c'è la Campania poi c'è appunto la Puglia che anticipa Sicilia Sardegna Molise e Basilicata ne vediamo da questa tabella in realtà la Basilicata è più giù ma le imposte evase ecco questo tanto per capire in Puglia arrivano appunto a 5.764 milioni abbiamo anche le percentuali di importe evase ogni 100 euro di gettito incassato questa insomma la fotografia che poi viene ripresa è stata ripresa da nordio ma che ha provocato anche tante reazioni la destra è quel fastidio per le imposte dal taglieggiamento al pizzo di Stato un rapporto che nasce con Berlusconi e continua con Salvini e Meloni ma con poche riforme il caso Giorgio Meloni la lotta si fa ad aziende e banche non al piccolo commerciante a cui chiedi il pizzo di Stato ecco senza mezzi termici termini anche da Meloni Matteo Salvini vuole eliminare il superbollo sulle auto di grossa cilindrata una tassa odiosa poi Silvio Berlusconi anche l'ex leader del centro-destra non amava le tasse non sono belle come dice la sinistra chiaramente si tratta di frasi un po' datate nel tempo che sono state poi riprese si parla anche di cavallo di Troian in retroscena il DDL sull'abuso d'ufficio arriva alla Camera mentre in Senato la maggioranza prepara la fase 2 per limitare le intercettazioni su corruzione e reati economici al CSM parte la battaglia sul parere anche questo è un argomento sicuramente che sta risvegliando come dire gli animi della politica 120 mila gli intercettati ogni anno in Italia su ordine della magistratura 200 milioni la spesa annuale per le intercettazioni in Italia secondo i dati del Ministero i dubbi di Banca Italia sull'autonomia malumori nella Lega e un assist al PD questa è un'altra storia ma strettamente connessa il giudizio in una memoria depositata in Parlamento serve gradualità peraltro tutta questa riforma vedremo poi gli esiti dopo chiaramente tutti i passaggi parlamentari questa riforma in qualche modo andrà a come dire influenzare anche il lavoro dei giornalisti andrà a regolare poi ulteriormente il rapporto tra la stampa e le fonti e gli stessi carteggi anche da questo punto di vista c'è stata sicuramente un po' di polemiche sono state tante reazioni tanti punti di vista diversi il mio personale è che come dire vanno bene le leggi vanno bene anche le limitazioni in questo caso sulla pubblicazione ecco magari non sono esattamente d'accordo però comprendo anche la razio di queste leggi quel che è certo è che anche la nostra professione ha bisogno di legge o meglio di regole certe l'importante insomma che ci dicano cosa fare che ci sia chiarezza e che tutti possano poi agire sulla base di regole certe che in questo momento tante volte specie per chi scrive poi di giudiziare in questo momento non sempre ci sono voltiamo nuovamente pagina torniamo ai servizi torniamo in provincia di Lecce è stata presentata la maschera di Purgianella che da Castrignano del Capo girerà tutta l'Italia un'occasione ce lo spiega il nostro Paolo Franza per far conoscere la cittadina del Capo di Leuca è stata presentata la maschera di Purgianella figura antropologica tipica del posto un'occasione per valorizzare la cultura locale e rafforzare il senso di identità della comunità castrignanese un progetto che l'assessorato alla cultura di Castrignano del Capo e l'associazione APS di Purgianella stanno portando avanti facendolo conoscere oltre i confini comunali provinciali e regionali con l'intento di promuovere il turismo nell'ultimo comune del Tacco d'Italia Purgianella è per la città per Castrignano un simbolo identitario molto importante diventare anche l'unico simbolo perché è unico sul territorio non lo hanno non lo condividiamo con nessun paese limitrofo e la bellezza di questa maschera va al di là dell'aspetto variopinto estetico ma si riscopre attraverso il significato profondo che è molto antico e noi vogliamo valorizzarlo è una maschera che poi va in giro insomma non si ferma solo a Castrignano no infatti tutto questo movimento che si è creato intorno alla maschera è nato proprio da un invito a un raduno di maschere storiche a cui abbiamo partecipato in provincia di Chieti poi siamo stati anche in Sicilia a Cattafi in provincia di Messina e riceviamo continuamente tanti inviti ora stiamo cercando di strutturarci meglio anche come associazione per poter magari un giorno ospitare anche qui un bel raduno di maschere nessuna polizia sulle spiagge libere di Trani il consigliere comunale Gianni Di Leo denuncia mare per bagnanti di serie B io ho l'impressione che a Trani si stia dividendo tra cittadini di serie A e serie B la denuncia asprissima arriva da Giovanni Di Leo consigliere comunale di Trani città simbol del turismo estivo nella sesta provincia durante lo scorso fine settimana le spiagge sono state prese d'assalto grazie alla prima ondata di caldo della stagione ma il consigliere ha raccontato ai nostri microfoni di aver registrato moltissime lamentele da parte dei cittadini rispetto alla condizione in cui versano le spiagge purtroppo si registra un mancato intervento di rimozione di detriti e tronchi che giungono a Rivanchi attraverso le maree da altre zone della costa i cittadini comuni quelli che non possono magari o non vogliono anche per volontà propria accedere ridi privati frequentano le spiagge pubbliche libere o quelle che sono state date in concessione con i servizi queste spiagge versano in condizioni disastrose la pulizia della spiaggia demaniale pubblica ovvero quella che comunemente viene chiamata libera è a carico del comune ed è a questo che si rivolge Giovanni Di Leo io se portassi i miei figli lì al mare domani mattina veramente li metterei a rischio a pericolo perché tra le altre cose oltre che da un punto di vista dell'igienico sanitario e della pulizia ci sono anche delle pietre con degli spigoli vivi pericolosissime mettiamo anche tra virgolette a rischio l'incolumità dei piccoli e degli adulti del resto mantenere la spiaggia pulita rappresenta un veicolo attraverso il quale sensibilizzare la comunità col fine anche di accogliere un turismo sempre più esteso e non finire col classificarlo in serie A e serie B torniamo nel Tarantino parliamo della preparazione fisica quanto è importante soprattutto quella di un atleta che deve anche considerare la condizione psicologica e allora è importante allenarsi è importante allenare il corpo il fisico ma ancora più importante lo sentirete nel prossimo servizio firmato da Ottavio Cristoforo è importante allenare la mente quanto conta la mente nello sport la preparazione fisica di un atleta è sicuramente importante durante una prestazione sportiva ma da sola non basta perché la condizione psicologica e lo stato emozionale giocano un grosso ruolo per affrontare un qualunque match è dunque importante allenare sia il fisico sia la mente è stato questo il tema di Mental Coach l'incontro organizzato dall'ISD Tennis Club di Crispiano con il patrocinio della Federazione Italiana Tennis e Paddle e del Comune di Crispiano nella sede del Circo da Tennis atleti del presente e del passato hanno parlato della propria esperienza c'era il difensore della Nazionale Italiana seconda ai mondiali del 1994 Antonio Benarrivo Michele Ladomada ex ciclista professionista che si è giudicato il quarto posto nel Giro d'Italia di Lettanti del 1994 e ha poi vinto svariate coppie in Portogallo nel 1997 e nel 99 Thomas Fabiano ex tennista classificatosi al settantesimo posto nella classifica ATP il nuotatore Luca Serio medaglia d'argento nella staffetta 4% stile libero mista ai campionati europei giovanili di Roma del 2021 e medaglia d'oro nella staffetta 4% stile libero ai giochi del Mediterraneo del 2022 e Jacopo Ragusa giocatore di basket in serie B c'erano anche vari dirigenti sportivi di volley e basket e rappresentanti delle associazioni sportive del territorio coordinati dalla giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Paola Guarnieri ancora ben trovati sempre in rigorosa diretta andiamo a fare un recap delle notizie del giorno già illustrata nel corso di questa lunga diretta in apertura avevamo parlato per l'appunto e possiamo vedere le immagini del blitz della Polizia di Stato questa mattina a Taranto Polizia di Stato che ha eseguito 5 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto a carico appunto di 5 persone si parla di omicidio e tentato omicidio commessi nei mesi scorsi nelle settimane scorse a Taranto le procure di Taranto e della DDA di Lecce sono certe di aver stretto il cerchio di averlo chiuso attorno ai presunti responsabili operazione scattata le prime ore dell'alba con gli agenti della Polizia che appunto hanno proceduto al fermo emesso dalla procura distrettuale di Lecce e dalla procura della Repubblica di Taranto nei confronti di 4 indagati tarantini ritenuti presunti responsabili dell'omicidio di Cosimo Nardelli 61 anni avvenuto nella tarda serata del 26 maggio in via Cugini nel capologo ionico inoltre due di loro assieme ad un altro indagato di origine straniera manato a Taranto sono ritenuti presunti responsabili del tentato omicidio di Cristian Troia compiuto sempre a Taranto nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi tutte le persone fermate sono state condotte in questura poi dopo le formalità di rito trasferite in carcere stiamo vedendo appunto le immagini che si riferiscono proprio al blitz di questa mattina della Polizia di Stato con il fermo di 5 persone accusate di omicidio e tentato omicidio a vario titolo e quindi sono certi gli inquirenti e gli investigatori di aver come dire risolto per quanto si possono risolvere questi episodi ma di aver fatto piena luce sull'omicidio di Via Cugini e sul tentato omicidio dello scorso aprile con 5 fermi tutte le persone sono state condotte in carcere in questo momento stiamo vedendo proprio le immagini che si riferiscono all'omicidio di Via Cugini quando ignoti appunto uccisero Cosimo Nardelli 61 anni e allora questa mattina tra poco alle 10.30 è prevista una conferenza stampa in questura ci saremo anche noi vi daremo tutti i dettagli nel corso dei prossimi approfondimenti e soprattutto nel corso delle edizioni del telegiornale a partire dall'edizione interregionale delle 13 e 15 ci torniamo e restiamo anzi sulla cronaca con un tragico incidente mortale registrato ieri a Copartino nell'Eccese ci spiega tutto Paolo Franza terribile schianto tra un'auto un Alfa Romeo 159 station Wego e un mezzo pesante esattamente una trebbiatrice il bilancio è di un morto l'incidente è avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale che collega Copartino a Galatina a perdere la vita a Chiara Durante di 32 anni di Copartino che viaggiava insieme al marito quest'ultimo rimasto ferito e condotto al Vito Fazzi di Lecce sul posto sono giunte due ambulanze del 118 i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e i carabinieri della compagnia di Gallipoli con il supporto dei colleghi della tenenza di Copartino ai caschi rossi il compito di estrarre i corpi dei due coniugi rimasti incastrati fra le lamiere contorte dell'auto per la donna non c'è stato nulla da fare è morta sul colpo mentre è rimasto in leso il conducente della macchina agricola ai carabinieri spetterà il compito di ricostruire la dinamica dei fatti l'impatto è avvenuto all'altezza della zona industriale tratto stradale già in passato teatro di altri gravi sinistri restiamo in ambito cronaca ma andiamo a varcare poi i confini i confini regionali bimba scomparsa a Firenze all'interno delle pagine della gazzetta e mezzogiorno c'è un articolo dedicato proprio a quanto accaduto all'hotel Astor che finisce di nuovo al setaccio con le indagini delle forze dell'ordine e in particolare dei carabinieri appunto nonostante gli sforzi ancora nessuna traccia di cata la bambina scomparsa nei giorni scorsi in azione ieri carabinieri di rosso gis e sis la struttura è stata sgomberata dagli occupanti abusivi si è conclusa dopo due giorni questa operazione il padre torna in procura e rivela altri episodi avvenuti in azione anche due autospurghi per scandagliare le fogne purtroppo però di cata questa bimba di soli cinque anni ritratta in questo fotogramma non si hanno più notizie dallo scorso 10 giugno è tutta Italia è con il fiato con il fiato sospeso cata è scomparsa leggiamo dal scorso sabato 10 giugno l'ipotesi di sequestro di persona che la procura di Firenze aveva fatto all'inizio dell'indagine si mantiene ancora corretta anche alla luce di questo sovraluogo approfondito tuttavia un nuovo impulso alle indagini potrebbe arrivare dalle nuove dichiarazioni che il padre della bambina Miguel Angel Romero Sciclo ha fatto nelle ultime ore al sostituto procuratore Cristin Von Borries l'uomo in mattinata è tornato in procura per incontrare di nuovo il magistrato che lo aveva già sentito come persona informata sui fatti perché secondo quanto si apprende il papà della bimba Miguel Angel avrebbe ricordato dei fatti degli episodi avvenuti all'astor nei lunghi mesi dell'occupazione abusiva si tratterebbe di situazioni di due tre mesi fa l'uomo maturando altri ricordi ha perciò deciso tramite i suoi legali di incontrare il PM Von Borries per metterli in luce si tratta di un'iniziativa della difesa su richiesta del nostro assistito hanno spiegato gli avvocati Filippo Zanasi e Sharon Matteoni che assistono i genitori di Cata il padre ci ha chiesto di poter parlare con il magistrato per raggiungere ulteriori elementi rispetto a quanto aveva già detto prima così lo abbiamo accompagnato sempre nel pomeriggio è andato a conclusione il sopralluogo nella struttura dove la bambina o sue tracce è stata cercata dai gruppi speciali dei carabinieri per due giorni di fila esaminando anche con tecnologie avanzate ogni angolo di semi interrato e di tetto lo scanafosso tutti i vani possibili camere e stanze di servizio aree tecniche elettronomestici e impianti eventuali perturgi pozzi punti di caduto nascondigli lunedì mattina sono stati fatti arrivare due camere nel servizio autospughi per liberare le fosse biologiche e scandagliare con telecamere si è trattato dell'ultima fase delle ricerche la conclusione è stata poi affidata all'intervento di fabbrica hanno chiuso porte sbarrato finestre e applicato catene lucchetti e chiavi agli accessi affinché nessuno entri violando il sequestro preventivo disposto dal tribunale un vigilantes privato è stato istruito dai carabinieri per presidiare di notte la struttura la famiglia di Cata sempre tramite i suoi legali è presentato formale istanza per effettuare un sovraluogo nell'astor a cui è stato spiegato insieme ai genitori della bambina dovrebbe prendere parte come loro consulente Luciano Garofano il generale dei carabinieri in congedo già comandante del RIS di Parma la domanda giace in una segreteria della procura speriamo che si possa far luce quanto prima sulla scomparsa di Cata speriamo davvero che questa bambina stia bene chiaramente in questi casi è importante anche il tempo tempo che mai come oggi davvero stringe davvero è prezioso voltiamo nuovamente pagina torniamo a parlare dell'incontro tra il ministro Urso e i sindacati che si è tenuto ieri a Roma si parlava di Exilva noi siamo e vogliamo diventare la prima siderurgia green d'Europa per questo chiediamo impegni specifici agli investitori per seguirci nei piani industriali di rilancio produttivo e di riconversione ambientale questo riguarda sia il sito di Taranto e comunque i siti dell'Exilva sia quelli di Piombino fare sistema con i sindacati e le industrie della filiera ne è convinto il ministro del Made in Italy Urso dopo quattro ore di confronto con le parti sociali su tre settori fondamentali del paese la siderurgia l'automotive e l'elettrodomestico settori dice il ministro con cui dobbiamo confrontarci con delle multinazionali il focus è però su Exilva dove si sta valutando con Mitta la possibilità di continuare la partnership per i titolari del di Castello in Via Veneto così come per i sindacati Mitta la differenza del passato deve garantire collaborazione investimenti risorse verticalizzazione della produzione ma soprattutto rilancio o i Mittal collaborano con impegni industriali volti e questo è stato molto positivo da parte del ministro a far ripartire anche l'alto forno 5 a Taranto tutti sanno cosa vuol dire far ripartire l'alto forno 5 o se no non si andrà da nessuna parte se no il ministero non l'abbiamo sollecitato perché porti avanti quella che è sono le sue prerogative il ministero potrebbe fare dei decreti per passare in amministrazione straordinaria i comportamenti dell'azienda nei confronti dei lavoratori sono inaccettabili sia per quanto riguarda tutti gli stabilimenti da Novi Ligure a Genova arrivando fino a Taranto e noi vediamo a rischio la situazione della siderurgia del nostro paese perché senza l'exilva e dall'altro lato Piombino è del tutto evidente che non c'è futuro industriale per l'Italia Ieri pomeriggio il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo 2026 Massimo Ferrarese in sopralluogo allo Iacovone lo stadio di Taranto c'era più o meno anche il sindaco Rinaldo Melucci che però è andato via aveva da fare il primo cittadino prima appunto che il sopralluogo si concretizzasse noi abbiamo ascoltato proprio Massimo Ferrarese intervistato intercettato dal direttore Gianni Sebastio Primo sopralluogo del commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto accompagnato da un'antrita squadra di tecnici Ferrarese ha voluto rendersi conto dello stato in cui si trova l'impianto sportivo del rione Salinella il dubbio è sempre quello ristrutturare oppure abbattere e ricostruire un impianto ex novo Commissario un sopralluogo allo Iacovone il primo dopo il mandato di commissario per i giochi del Mediterraneo Beh, mi sembra il minimo è lo stadio più importante del territorio è lo stadio dove praticamente si svolgeranno le partite più importanti la manifestazione quindi da qui dobbiamo iniziare questa è la struttura che dobbiamo guardare attentamente per poi decidere insieme all'amministrazione cosa fare io sono qui lavoreremo ci sono già 12-15 persone dentro dei tecnici che ci chiariranno come stanno le cose la situazione le strutture come sono e quindi da lì partiremo per decidere cosa fare Quando sarà presa una decisione se ristrutturarlo o demolirlo e ricostruirlo? La decisione sicuramente la prendiamo con l'amministrazione non la prendo da solo ma la prenderemo nei prossimi giorni ci vuole poco a capire come stanno le strutture e soprattutto ci vuole poco a capire quanto tempo ci vuole per realizzare un nuovo stadio o per cercare di ristrutturare quello che c'è ma non parliamo mai in ogni modo di ristrutturazione parliamo sempre di una situazione che sarebbe identica e precisa a un nuovo stadio Conferma la volontà di coinvolgere anche gli stadi di Francavilla Fontana e Brindisi? Proprio ultimamente nell'ultima riunione a Roma ci è stato chiarito che con le squadre che ci saranno sia maschili che femminili due stadi non possono bastare quindi stiamo andando oltre i due stadi dobbiamo arrivare almeno a quattro chiaramente Brindisi e Francavilla potrebbero essere la soluzione ideale Infine da segnalare che il sindaco Rinaldo Melucci e l'assessore Mattia Giorno prima che il sopralluogo iniziasse si sono allontanati dallo stadio Rasmo Iacovone Sì il sindaco di Taran tirando via molto probabilmente aveva da fare io ero con i miei tecnici e abbiamo visitato la struttura un paio d'ore ma abbiamo capito più o meno come stanno le cose sicuramente adesso metteremo a studiare per cercare di individuare la migliore soluzione per non perdere tempo rivedere il tempo preziosissimo non ce n'è più siamo fuori tempo massimo e per individuare una migliore soluzione anche sotto l'aspetto strutturale Ecco prima di chiudere c'è questa notizia che è sicuramente curiosa per quanto poi drammatica siamo all'interno della gazzetta del Mezzogiorno la maledizione del titanico titanici come direbbero gli anglosassoni svaniti nel nulla cinque turisti è stato si è come dire si registra una novità in questa maledizione secolare è stato disperso il batiscafo che scendeva a 4000 metri di profondità una disavventura per pochi il titan viene usato solitamente da chi è disposto a pagare un biglietto salatissimo per farsi calare negli abissi l'ombra della maledizione del titanici torna ad allungare i suoi tentacoli fra le gelide acque dell'atlantico del nord un batiscafo usato per offrire a drappelli di turisti danerosi l'emozione di poter osservare il relitto del soso transatlantico divenuto oltre un secolo fa simbolo di sventura dei mari è considerato infatti disperso a qualche centinaio di miglia a largo del continente americano dopo aver interrotto tutti i contatti con la superficie e allora come dire quella storia drammatica poi tra l'altro traslata nella pellicola vincitrice di tanti premi Oscar firmata James Cameron quella storia drammatica continua ancora oggi ad arricchirsi di nuovi elementi c'è appunto chi parla di maledizione del Titanic una nave da crociera nata sfortunata che ancora oggi fa parlare di sé speriamo che insomma anche questa vicenda possa poi risolversi nel migliore dei modi che i turisti saliti su quel batiscafo stiano bene noi chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale restate con noi perché tra poco Anna Saponaro e Gianmarco Sansolino ci delizieranno come ogni mattina in mattina sud il nostro contenitore il nostro focus sugli approfondimenti di tutto il territorio allora sicura così questa lunga rassegna io vi ringrazio per la cortezza di attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo